Dati più confortanti nel bollettino epidemiologico della regione che fotografa l'andamento della pandemia da covid-19 in Puglia. Sono 1.936 nuovi casi registrati, mentre nel bollettino domenicale erano 4.765. Il numero dei test effettuati nella giornata di domenica sono poco più di 10.000 rispetto a praticamente il doppio del giorno precedente. Si registrano ancora due persone decedute, così come ieri, mentre risalgono leggermente gli attualmente positivi che tuttavia non superano quota 93.000. La causa sono i pochi negativizzati registrati nella giornata festiva, e cioè 1.482. Stabili e in leggera discesa i ricoveri, che sono 513 in area non critica, mentre 16 in terapia intensiva. I numeri provincia per provincia sono 594 i nuovi casi registrati nel Barese, mentre 425 in provincia di Lecce seguono Taranto con 247, la Bat con 222, il Foggiano con 208 e Brindisi con 185 nuovi contagi, da registrare anche 47 residenti fuori regione. Per capire cosa ne sarà della pandemia in Puglia bisognerà comunque attendere il bollettino di domani e dei prossimi giorni.